La notizia bomba su Piero Barone del volo. Nelle ultime settimane si è molto parlato del destino del famoso trio Canoro. Dopo la lite in diretta alla radio tra Gianluca Ginobili e Piero Barone, la gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose, aveva detto il primo. Il secondo, invece, aveva replicato, mi sono un po' rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre. Tu vuoi essere altro e continua a essere altro. Non parlare per tutti. Poi erano esplose voci e illazioni su una presunta separazione dovuta ad ambizioni e scelte di vita diverse tra i tre componenti del volo. C'è voluta una puntata di Viva Rai 2 e la smentita da parte dei diretti interessati per mettere a tacere il gossip. Gossip che ora riesplode sulla vita sentimentale di Piero. Nei giorni scorsi era uscita la notizia di una presunta liaison tra Piero Barone ed Elisabetta Gregorati. Ora, però, il sito Blues House smentisce tale ipotesi e tira fuori un'altra indiscrezione. Innanzitutto ribadisce che Piero sarebbe intenzionato ad intraprendere la carriera da solista e tanto da aver preso delle lezioni individuali. Poi fa il nome della presunta nuova fiamma del cantante. Recentemente Piero Barone ha condiviso una sua foto mentre sorride con alle spalle una folla di fan che lo acclama. Tra i commenti è comparso quello di colei che farebbe battere il suo cuore. Stiamo parlando di Desiree Popper, volto noto che dopo aver partecipato a Uomini e Donne come tronista ha preso parte alla fortunata serie Mare fuori dove interpreta Consuelo Gomez. L'attrice ha commentato con alcuni cuoricini la foto di Piero, facendo scattare le supposizioni, è davvero lei la sua nuova fiamma? Chissà. Intanto sul suo conto sappiamo che ha avuto un passato difficile. Dopo aver perso la mamma quando aveva soltanto un anno è stata presto abbandonata anche dal padre. Nonostante tutto è riuscita a fare successo nel mondo della tv italiana. E ora spunta fuori il rumor sulla sua presunta relazione con Piero Barone del volo che tra l'altro è di sei anni più piccolo, il 30 lui, 36 lei. Sarà vero? Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.